Bucinese in serie positiva da due turni, pronta ad affrontare nell'ultimo impegno dell'anno l'Aglianese, certa protagonista dei quartieri alti della classifica di eccellenza. L'ultimo acquisto Momo parte dalla panchina più che in avanti da notare, è però l'elevata soglia di attenzione difensiva che consente non moltissimi palloni agli avanti Nero-Verdi, Marzierli, De Gori e Pagano. Proprio quest'ultimo però al termine di una bella incursione centrale riesce solo a concludere debolmente addosso a Bettoni. Pagano quindi va sul corner a dispirare Zuccarelli in cornata altissima. La prima volta della Bucinese dalle parti di Fedele, una combinazione tra Cambo ed Adamo, il numero 4 però spara centralmente. Purtroppo non ha una traiettoria pericolosa e dissimile, siamo a fine frazione, anche il calcio piazzato di Berti, così l'estremo ospite respinge. Se al primo tempo vede le azioni col contagocce, è decisamente spumeggiante la ripresa che si apre con il tentativo, tutt'altro che ben riuscito, di Cambo in girata all'interno dell'area ospite. Poi ancora Pagano ha sul piede il gol dell'Aglianese, ispirato da Marzierli. Il diagonale supera l'intero specchio della porta. Questione di centimetri stavolta, ma anche poco dopo, quando il traversone da destra di Cambo non trova la deviazione con la punta del piede di Galantini. Dici a settesimo, De Gori per Pagano, cross morzato, Raimondo cerca il lob, Bettoni smanaccia. Con il passare dei minuti cresce invece l'importanza tecnico-tattica di Momo, entrato ad inizio ripresa. Cambio per Adamo, che si divora a tu per tu l'1-0 su Fedele. Momo quindi vede il portiere nero-verde fuori dai pali, cerca una traiettoria notevole alta di un soffio. Così al quarto ed ultimo minuto di recupero, ancora Fedele vola sotto la traversa a negare la rete ad Adamo e finisce ad occhiali un match molto equilibrato nel quale la Bucinese non ha di certo demeritato.